Massimo Fossati, segretario generale della Cisla Romagna, dopo i mattoni, i primi mattoni per la costruzione di questa nuova entità all'interno della Romagna, vuole lui cedere il passo, passare il testimone, un'esperienza molto interessante? Sì, sicuramente un'esperienza importante, entusiasmante, complicata, però alla fine posso dire che la nostra organizzazione, che voglio ricordare è stata la prima organizzazione sociale che si è unificata in Romagna, unificando le tre province, le tre unioni sindacali di Forlicesena, di Ravenna e di Rimini e questa sfida che è stata difficile è oggi una sfida vinta. Come sempre questi processi di aggregazione portano con sé molti problemi, ma anche molte opportunità. Oggi anche alla luce del risultato referendario penso che ci siano davvero tutte le condizioni per riprendere quel percorso e quel ragionamento sulla Romagna, sul suo processo istituzionale e su come si può rappresentare meglio i lavoratori, i cittadini romagnoli dentro una dimensione nuova che offre davvero delle grandi chance e dobbiamo giocarle fino in fondo. Filippo Pieri, neosegretario della CISL Romagna, un'organizzazione sindacale che a differenza di altre organizzazioni imprenditoriali e sindacali in tempi non sospetti ha affrontato il tema del riordino organizzativo. Sì, è stata una sfida che ci siamo scelti nel 2013 quando la CISL nazionale ha lanciato questa proposta di riorganizzazione della nostra CISL appunto e noi a livello romagnolo, le tre vecchie province di Ravenna, di Forlice-Sena e di Rimini abbiamo deciso di metterci insieme e di costituire appunto la CISL Romagna. Una sfida importante che mette insieme tre organizzazioni che hanno anche delle storie, dei percorsi diversi, ma che però le accomuna l'appartenenza ad un territorio importante che ha una sua identità culturale importante che è appunto la Romagna. Un passaggio questo abbastanza particolare, un passaggio di testimoni in un tempo difficile. Sì, dopo quattro anni appunto dal 2013 l'abbiamo costituita, la CISL Romagna è arrivato il momento di fare della manutenzione a questo importante progetto. Fra qualche mese ci sarà il congresso, però in questi giorni è nata questa opportunità dove appunto Massimo Fossati che è stato il primo segretario della CISL Romagna ha comunicato le sue dimissioni perché appunto andrà in pensione, quindi lui ha avuto anche questa opportunità e questa fortuna. E quindi oggi siamo al cambio del gruppo dirigente, quando in CISL, quando si dimette il segretario generale, si dimette tutta la struttura e tutta la segreteria e quindi oggi abbiamo fatto questo importante passaggio di rilancio della nostra attività. Prima della data del referendum e della crisi di governo i metallmeccanici hanno siglato il nuovo contratto. Sì, esatto. È stato firmato un contratto per più di 1.600.000 lavoratori del settore della grande industria metallmeccanica. È un contratto storico perché intanto prima di tutto ci vede tutti uniti dopo due contratti firmati separatamente, quindi anche la FIOM ha siglato con FIM e WILM questo contratto che ha segnato e segnerà probabilmente anche un po' la storia delle relazioni sindacali del nostro mondo sindacale, insomma dei metallmeccanici, perché oggettivamente ci sono dei forti cambiamenti anche proprio nella struttura di quella che è il contenuto proprio. In effetti ho potuto vedere almeno una prima bozza, non trattasi solo di un rinnovo salariale, quanto invece per esempio il riconoscimento del doppio livello contrattuale. Poi il welfare state, che avete contrattato. Sì, allora per quanto riguarda intanto il salario vero e proprio è un recupero pari pari di quello che è l'inflazione dell'indice IPCA dato dall'Istat e quindi che verrà recuperato a giugno dell'anno successivo, quindi a consuntivo, quindi l'inflazione verrà recuperata totalmente. Poi l'altra parte riguarda tutto quanto quello che è il welfare contrattuale. In particolare abbiamo aggiunto quello che si può definire dei benefit che non sono sostanzialmente dei veri soldi ma sono ad esempio come dei buoni spesa, buoni carburante o per spese scolastiche o di cura della persona che vengono distribuiti con il primo anno del 2017 100 euro, 150 il secondo e altri 200 il terzo anno. Inoltre abbiamo introdotto anche una novità per quello che riguarda la sanità integrativa in quanto invece di essere sostenuta anche dai lavoratori che volontariamente si iscrivevano siamo passati a una copertura totale da parte dell'azienda per tutti i lavoratori, quindi non c'è bisogno neanche di iscriversi ma tutti i lavoratori in automatico vengono iscritti e sono coperti anche i familiari a carico. Questa è una grande novità, è stata anche aumentata la quota aziendale per quello che riguarda le pensioni integrative perché anche il fondo Cometa che serve per integrare la pensione pubblica è stata integrata quindi l'azienda a prescindere metterà il 2% sui minimi del lavoratore in più. Crisi di governo superata, nuovo governo, referendum del 4 di dicembre, l'azione sindacale che mai si è interrotta riprende a pieno regime. Certo, dobbiamo riprendere subito il nostro lavoro, sono contenta che la crisi è durata davvero poca, un buon governo, un buon presidente del Consiglio, dobbiamo riprendere alcuni accordi che vanno completati e vanno gestiti che noi col governo Renzi abbiamo siglato. Continuare quindi il confronto sulla Previdenza e dare il via alla contrattazione pubblica, abbiamo fatto un buon accordo anche in questo senso, chi ha sbloccato la contrattazione, ora bisogna fare i contratti e rimettere al centro della politica del Paese il tema dello sviluppo, della crescita e del lavoro. Quindi due problemi imminentemente contrattuali, pubblico impiego soprattutto ma anche Previdenza, ma il tema che voi ponete ad esempio è lo sviluppo del Paese, l'occupazione, il territorio, il mezzogiorno soprattutto che ha dimostrato attraverso il referendum di soffrire tantissimo. Si credo che sia davvero importante che sia stato istituito appunto un ministero che si occupa dello sviluppo del mezzogiorno e del lavoro. L'Italia per uscire dalla crisi deve uscire tutt'assieme, non esiste un'Italia a due velocità che possa consentire a tutto il Paese di uscire dalla crisi. Quindi investimenti, sviluppo, crescita, lavoro. Giorgio Graziani, segretario generale della Cisla dell'Emilia Romagna, ha seguito e segue anche questa ristrutturazione organizzativa all'interno della regione, non più le vecchie province, anche se ahimè non so come andranno a finire le province sotto il profilo amministrativo. La riorganizzazione della terra-area di Romagna. Beh, quattro anni fa abbiamo fatto un congresso dove abbiamo preso una sfida importantissima, ristrutturare e riorganizzare tutti i territori nell'Emilia Romagna, al di là di quelli che potevano essere le future evoluzioni delle province, che vedremo dopo il referendum negativo quale sarà il loro futuro. Per quanto riguarda la nostra sfida, è stata una sfida in particolare nella terra di Romagna vinta, perché ha messo insieme culture, come si dice, affini, come si dice, un quadro, un contesto sociale molto vicino, ma anche così diverso e questa è sicuramente stata una ricchezza per un territorio che è diventato sicuramente più forte. La recente, le recenti interviste, meglio, indagini, studi che solo le 24 ore prima Italia oggi hanno condotto sul nostro paese dimostrano come la regione Emilia Romagna attraverso le sue province abbia un alto livello della qualità della vita, anche della ricchezza, forse un po' meno sotto il profilo della sicurezza. Eh, ho letto anch'io di queste statistiche che francamente non è che mi appassionano tanto, io credo che l'Emilia Romagna, in particolare anche la terra di Romagna, sia una terra accogliente, una terra di eccellenze esplicite sia nel campo agricolo, industriale che anche nel campo del sociale. Credo anche che ci siano tante cose che si possono migliorare. Il bello è di poter lavorare con una giunta, lo dico con davvero orgoglio, che riconosce il ruolo delle parti sociali e che quindi eh quando definisce degli obiettivi li definisce in modo se possibile condiviso, almeno eh dopo un confronto. Credo che abbiamo eh fatto un buon lavoro con il patto per il lavoro sottoscritto un anno e mezzo fa. Oggi i dati dell'Emilia Romagna sono i migliori dati nel paese. Il paese ha una ripresa fragile eh e anche in questo momento un po' contrastante. Oggi l'Emilia Romagna ha una ripresa, seppur fragile, comunque chiara ed esplicita, con un PIL all'1,1%, la disoccupazione che scende, l'occupazione in particolare quella femminile che sale. Credo che questo sia frutto di una logica di condivisione e di compattezza dentro a un confronto sociale.